Alex Tamborini, questa partita dell'Hockey Club Lugano è andata male, un po' per gli infortuni, un po' perché bisogna riconoscere, forse oggi il Ginevra ha fatto meglio. Tutto assieme, nel senso che Lugano era partito anche bene, poi prima l'infortunio a Schlegen, poi quello a Morini, insomma una serie di infortuni. Io in 25 anni di carriera non ho mai visto una squadra di hockey con tanti infortuni in una stagione, veramente incredibile. E dopo la partita ha preso un'altra direzione, devo dire che anche Lugano poi ci ha messo del suo, degli errori che sono costati delle reti di power play che non funziona, che ancora una volta concede addirittura un gol. Per una volta Lugano non è stato dentro una partita che si è complicata per gli infortuni più forti della mala sorte. Abbiamo giocato contro il Ginevra, campione in carico, finalista in Coppa Campioni, insomma chiaramente una squadra che ci teneva a vincere stasera per rilanciarsi in classifica. Sì, è una squadra solida, una squadra che dall'arrivo di Tim Berni ha acquisito ulteriormente spessore nella difesa, lanciata in Champions League, in finale. Però aveva bisogno anche di Ginevra a questi punti perché per entrare nelle 6 ormai la lotta è furibonda e Ginevra è lì proprio con Lugano. Però credo che prima di questi episodi la partita l'aveva comunque condotta bene il Lugano. Per una volta davvero li ha subiti e credo che arrivi anche a un momento naturale dove quando ti capitano determinate situazioni, ecco così non trovi quell'energia subito a caldo in una partita per reagire, è stata questa la serata. Alex, parliamo di te, della tua nuova esperienza a MySport, com'è e che cosa è cambiato per te? Fondamentalmente cambia poco perché commento il personale è sempre quello della SSR, della RSI che produce in modo sempre impeccabile la produzione televisiva della Svizzera. Io credo che dopo la National Hockey League sarà migliore al mondo, se guardate le riprese anche della KHL. Magari potessimo vederlo in Italia. Magari si potesse far crescere anche il movimento italiano perché c'è un'Olimpia delle porte e la sensazione purtroppo che a differenza di quello che si era cercato di fare quando c'era stata a Torino all'Olimpiade, vent'anni or sono praticamente, anno più anno meno, qua si si è un po' perso il treno per far rivolgere ulteriormente l'Oca italiana, almeno questa è la situazione da fuori. La domanda che ti metto come difficoltà, è più facile che Lugano riesca a entrare nelle prime sei o l'Ambri mantenere il decimo posto? Ma è una buona domanda, qua da oracolo, perché dopo la doppia vittoria col Bernati aveva risposto che Lugano era lanciatissimo. Dopo la partita di questa sera si aprono ulteriori punti interrogativi. Non sappiamo il quadro clinico di Schlegel, Morini difficilmente avrà qualcosa a corta durata perché l'impatto è stato davvero brutto e violento contro la Balaustra e dunque devi andare a rimescolare tutto, non è Schlegel, dovrai giocare con Koskinen e dunque rinunciare a due stranieri a questo punto, Rutzlein, Kenville, Kempe, vai a sapere, e di nuovo a rimescolare le carte e l'Ambri è ancora padrone del suo destino, questa è una cosa importante. E anche un calendario che guarda fuori male, come si suol dire, perché c'hai due volte la gioia in casa, c'hai l'Agnau, però quelle sono partite da vincere, fondamentalmente l'Ambri ha il destino nelle sue mani. Ultima cosa, chi rischia di più venerdì? Fra tre giorni c'è il derby, Lugano per tentare di stare vicino al sesto posto e l'Ambri chiaramente per tenere questo decimo posto. Chi rischia di più? Quello che rischia di meno, nel senso che se tu vai con la paura di perdere, la perdi. È una partita che devi voler vincere, il derby vive di emozioni e devi cancellare anche determinate situazioni magari negative, Ambri adesso ha perso Conce, punterà molto su Juvenen, ma già nelle ultime partite, Juvenen aveva giocato nelle ultime 15 partite, 13 partite, si sono un po' delineati gli equilibri in casa bianco-blu, con Adolfa anche saltato alcune partite negli ultimi turni. Se tu vai con la paura di vincere, la perdi. Dunque il derby andrà probabilmente alla squadra che avrà più convinzione per giocare per vincere, e non giocare per non perdere. Grazie Alex, grazie da buon amico, finalmente ti sei concesso ai nostri microfono. Un piacere, guarda non sapevo ancora quando c'era l'opportunità, abbiamo avuto il fuoco verde, come si dice, il semaforo verde, allora ci ritroveremo anche presto per ulteriori chiacchierate. Visto che tu eri l'uomo del MotoGP. Possiamo parlare anche di moto se volete, possiamo parlare anche di basket, poi dobbiamo andare a Varese a vedere basket assieme noi due. Ti aspetto volentieri. Ciao, grazie.